era già sposato con un'altra mamma ma che ha fatto questa come è diventata gigante ha spaccato tutta la porta no emily salve a tutti ragazzi e benvenuti a gli uc in questo secondo nuovo video che pubblico quest'oggi torniamo con la serie di the curse of stepmother emily il gioco sviluppato dagli stessi creatori di scary doll evil emily nightmare gate eric sane smiling x corp dagli indie fist in pratica dove hanno rilacciato il secondo teaser trailer ufficiale del nuovo gioco in arrivo della matrigna cattiva quindi andremo a fare la reazione tra poco prima siamo qua su evil emily perché voglio farvi vedere questa lettera dove dice che io e claire stiamo andando a casa sua in montagna per fare un po di vacancia torneremo presto emily però adesso è cambiato tutto questa era prima che il gioco fosse stato rimosso dal play store e che ci fosse scary doll perché se mettiamo la lingua in inglese la lettera che è stata scritta da emily cambia perché dice ciao tesoro poi dice le stesse cose di prima ma stavolta cambia e non c'è più claire come sua amica ma lui sì quindi hanno cambiato anche il personaggio del gioco perché noi sappiamo che claire è la bambina che si trova su scary doll 1 il gioco della bambola cattiva che è stata maledetta e poi abbiamo dovuto salvarla e claire sarà la protagonista invece di stepmother emily perché dopo che l'abbiamo salvata dalla maledizione della bambola cattiva il protagonista il padre è stato trasformato poi lui in un bambolotto e quindi la bambola cattiva di nome bupip se l'è portata via nel mondo dei giocattoli insieme a babbo natale e quindi alla fine claire diventa la protagonista e su scary doll 2 dovrà salvare il suo padre babbo natale però poi tornerà su stepmother emily da adulta in questa casa che è la stessa che ci sarà pure su scary doll 1 e il nuovo gioco in arrivo rispetto a scary doll diciamo che la casa è la stessa tranne l'arredamento dentro casa che è cambiato però su stepmother emily sarà tutta diversa ristrutturata cambiata anche la location non ci sarà più la neve diventerà tutto un quartiere questo posto però per entrare dentro casa come sui volumi dovremmo fare spaccare i vetri delle finestre e intrufolarci come dei ladri perché non abbiamo mai le chiavi quindi adesso qui dobbiamo prendere la crowbar il protagonista il fidanzato di emily la dobbiamo salvare perché poi dopo che l'abbiamo salvata i due si sono sposati è nata rosa però il protagonista il caro ragazzo che non so chi sia non si sa mai chi è era già sposato con un'altra mamma ma che ha fatto questa si è teletrasportata proprio tra passate il muro ma dai ma ma fammi dire le parole che devo dire cara emiluccia che è suo stepmother emily si chiamerà emilona perché diventerà una gigante qui invece era diventato un mostro perché ha giocato con la tavola a guisa e non si gioca con le tavole a guise cara mia cara fidanciata adesso dovrei lasciarti dopo questa cosa che hai fatto non si sa nemmeno che fino a fatto la sua amica lusi un vero segreto adesso vi ho recuperato un oggetto che gli appartiene il medaglione veramente importantissimo e quindi bisogna portarlo nella stanza che siamo stati poco fa quando lei è venuta a farmi quasi lo jumpscare mi stava per acchiappare proprio quindi poi bisogna mettere sei oggetti che gli appartengono proprio iniziando proprio con il medaglione che va messo dove questo teschio veramente hai di nuovo qua emily che si può anche abbassare come un gatto emily che fai se sapevo che diventavi una cosa del genere non mi sarei fidanciato con te anzi nemmeno ti avrei sposato e poi diventa anche cattiva questa dopo che la salveremo dopo qualche anno perché sua figlia rossa starà male proprio e darà la colpa a claire nostra figlia che il protagonista l'ha avuto con un'altra donna prima di sposarsi emily un vero segreto qua c'è pure un quadro che la figura delle donne che non so chi siano noi interessa solo cercare di sopravvivere quest'oggi prima che arriva questa a prendermi emily e qui mi ha spaccato poi la porta tutta distrutta ancora la casa non c'era nemmeno il letto qua per i bambini dato che ancora non c'erano mi ho trovato la tavola guisa dove con questa nostra cara emily ci ha giocato troppo mamma mia che rumori che fa quando lanciamo la roba mi tuffo emily non venire per favore fammi cercare qua perché abbiamo bisogno anche di una chiave dato che il protagonista è venuto proprio senza chiavi stessa cosa su scheridoli e anche su stepmother emily non abbiamo mai le chiavi nei giochi dei capitoli di scheridoli e evil emily proprio vabbè abbiamo un altro oggetto qui da mettere siamo arrivati a due questo va messo in questa specie di cartone e di nuovo qua me la ritrovo ma veramente questa qui ha il radar sa sempre dove mi trovo e ha trapassato il muro ma che cosa sei umano o mostro fantasma mi sa che questa qui è mostro e fantasma allo stesso tempo però emily dove sei e qua mi blocco pure quando mi muovo allora emily là c'è un pezzo di fucile me lo fai raccogliere per favore così ti metto fuori uso me lo fai raccogliere e mi sai no allora me ne vado dai qua ci sono pure quadri strappati addio cara emily questa qui può anche tuffarsi come spider man dove sei emily sei andata e fammi prendere il fucile che ti voglio ciottare ti voglio eliminare proprio non voglio più essere il tuo fidanzato ma qui il personaggio si bug e purtroppo mi servono le municioni eccone uno allora emily viene qua dai ti eliminiamo anche se resta in vita e qua che c'è ah la key la chiave di casa abbiamo trovato sto anche giocando in inglese nemmeno me ne era accorto emily poi c'è anche questa stanza che tornerà su step motor emily con questo tavolino qui nemmeno le sedie hanno messo ma dai che arredamento strano un tavolo senza sedie che mangiamo in piedi io ho trovato anche un bellissimo gancio ma se emily non vuole venire ora mi sa che non posso manco usarlo prendi il lockpick questo oggetto che c'è anche poi su granny qui non c'è il ciuffo i capelli la nostra cara monellona io so anche dove è finito qua sopra vero ciao eccola lì emily che va a fare il giro giro tondo e mi prendo questo e me ne vado ciao ciao ti ho fregato la 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 qui andiamo a recuperare il fuciletto che tra un po ti spariremo cara mia dobbiamo andare a sparare un coniglietto pure che è lo stesso che c'è su scheridoluro purtroppo lo spariamo e poi è sofferente eccolo qua in realtà qui esplode addirittura un coniglio di pasqua che esplode veramente cosa strana poverette qui alla fine si disintegra e gli rimane solo la giampetta cosa stranissima un'esplosione allora che ci serve ancora siamo arrivati a metà dell'opera ci serve la ciocca dei capelli che l'avevamo anche trovata e non mi ricordo dove l'ho buttata sì eccolo l'ho trovata emily penso che ti metti a gattonare come un bambino una bambina anzi perché deve gattonare questa qui vado a fare il giro via 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 ma completare il gioco così andiamo a fare la reazione al teaser trailer che purtroppo dura poco ragazzi quindi per allungare il video ho dovuto completare di nuovo il gioco la fotografia mi manca fotografia delle meraviglie emily sei qua brutta monellaccia che diventerà una gigantessa poi il nuovo gioco in arrivo ma giusto l'avevo schicciato qua il fucile adesso mi ricordo il fuciloccio speriamo che lavoriamo anche su step motor emily sono molto molto importanti questi oggetti bisogna ciottarli i nemici però non combiniamo niente eccolo qua il fuciletto una colpa abbiamo soltanto speriamo di usarlo al meglio senza che poi lo sprechiamo emily e vieni qua fidanciata una bella fidanciata eccola lì addirittura fuori era ciao emily e buonanotte e sonni d'oro adesso dobbiamo prendere questo da lei mi sa che si è buggata ok adesso sì finalmente dopo tre ore vabbè schiccialo via personaggio un pezzo di abbigliamento fotografie belle me le porto a casa mia strane fotografie eccola abbiamo l'ultimo oggetto finalmente adesso possiamo andare a annullare la maledizione di emily della nostra cara fidanciata se la possiamo salvare una volta per tutte di questa la buttiamo la troppo ha fatto un grande rumore di sicuro strani rumori comunque abbiamo tutto il pezzo di abbigliamento va messo qua nel piatto il pezzo di foto anche nell'altro piatto così ce li mangiamo più tardi e allora abbiamo completato il rituale annullando la maledizione quindi stiamo salvando la cara emily che in futuro diventerà la matrigna di claire e diventerà una cattiva qui intanto l'abbiamo salvata l'abbiamo sposata pure bravo veramente personaggio quindi un'esplosione dopo il coniglio anche la nostra cara emilona quindi qua l'abbiamo salvata e ci ringrazia pure poi ci siamo sposati dopo sta roba e quindi tutto si trasforma in un incubo perché dopo che l'abbiamo salvata emily diventerà cattiva tratterà male la nostra cara figlia claire ma poi rimarrà rinchiusa sopra la soffitta che l'ha rinchiusa bu pip la bambola cattiva e dopo qualche anno ci spostiamo su step motor emily dove lei cambierà e diventerà ancora più cattiva quindi andiamo a fare finalmente la reazione al teaser trailer ufficiale ed eccolo qua il trailer che sta iniziando con la intro degli indie fiest mentre lo scrigno si è aperto con il loro bellissimo logo quindi sta iniziando questa è una anteprima del gameplay mentre c'è emily che ci sta inseguendo ma come è diventata gigante ha spaccato tutta la porta no emily no no vattene via e che sta succedendo ah c'è stato nullo pure quindi mi sa che avrà raggiunto claire purtroppo l'avrà catturata mamma mia teaser trailer comunque è cortissimo ha fatto anche veloce delle screenshot e andiamo a vederle è da qui che inizia il teaser trailer da questa immagine qua ci troviamo proprio nel soggiorno dove c'è il tavolino come su evil emily da notare che la stanza è diventata anche più larga ha aggiunto più armadi anche se poco decorata soltanto pochi libri hanno messo mi sa che emily non legge tanto e tra un po scopriremo anche il perché e qua c'è pure una finestra magari dovremmo rompere il vetro così potremmo uscire come via alternativa perché qui è aperta proprio quindi bisogna solo rompere il vetro poi possiamo passarci e banca andare in questo modo oppure non serve a niente quindi qua arriva a emily la nostra cara matrigna che nello scorso teaser trailer è diventato una gigante grande quanto una casa qui invece diciamo che torna quasi quasi nello stato normale però resta sempre un mostro con capelli bianchi pelle tutta rosa è diventata adesso prima era rossa adesso rosa veramente strane vestiti tutti distrotti ci sta inseguendo e qui c'è una barra pure e piano piano la barra gialla sta diventando colorata di rosso qua si vede proprio quanto sia gigante si vede anche il tavolino con gli stessi piatti ma sempre gli stessi piatti usi cara matrigna ma cambiali e là c'è un'altra porta che ci farà andare in altre stanze segrete dove la casa è diversa pure è stata tutta arredata è stata resa più bella peccato che il nemico non sia bello ma sia veramente cattivo quindi la nostra cara claire si chiude la porta per scappare via da questo demone mega purtroppo è fortissima e ha distrutto la porta in tanti pezzi nemmeno uno che fa karate farebbe una cosa del genere ma la nostra cara matrigna è forciuta oltre a diventare una gigante proprio ha spaccato tutta la porta in tanti pezzi peccato veramente e quindi qua si fanno vedere che questa nuova nemica che dovremmo affrontare sarà bella tosta sarà fortissima sarà peggio di ice cream di granny mister mit tutti quanti messi insieme veramente quindi si sta avvicinando verso di noi e qua si vede la sua alteccia e rispetto a questo armadio lei è più alta quindi è più alta di due metri o anche di più veramente gigante e qua la barra sta diventando tutta rossa piano piano io mi chiedo che cosa significa soprattutto sta barra forse quando lei si trasforma in questo mostro dopo qualche secondo quando la barra verrà tutta completata tornerà normale nella classica emily forse questa è la mia teoria fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate voi ragazzi e quindi il trailer termina qui poi con emily che si avvicina lo schermo diventa tutto nero e si sente un urlo di claire che purtroppo è stata catturata quindi oltre a schiacciarci questa quando diventerà una gigante con i suoi tacchi diventerà pure una mostriciattola di due metri che spaccherà le porte in mille pezzi veramente un gioco bellissimo sarà quindi vi consiglio ragazzi di pre-registrarvi perché quando uscirà preparatevi a una grande serie su questo canale quindi direi di terminarlo qui questo video spero che vi sia piaciuto se così lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale attivando la campanellina noi ci vediamo con prossimi nuovi video vi ringrazio per la visione e ciao ragazzi